Vedendo che questo tipo di malattie neurologiche rispondevano non in modo ottimale alle terapie convenzionali, la dottoressa Cusmini inventò quel famoso metodo Cusmini che ancora adesso è abbastanza famoso in tutto il mondo. Io quando l'ho studiato ho avuto modo di migliorarlo in base alle nuove realtà scientifiche e diciamo che questo metodo Cusmini che io chiamo integrato, quello che faccio io, è un metodo che dà delle risposte decisamente migliori rispetto alla sola terapia convenzionale. Si basa innanzitutto sull'ambito nutrizionale ovviamente, si basa anche sul benessere dell'intestino, l'intestino è un organo estremamente importante perché l'80% del sistema immunitario si crea nelle pareti delle mucose dell'intestino stesso. Poi ovviamente c'è l'integrazione con delle sostanze particolarmente buone per per tentare di aiutare il nervo, la guaina del nervo a ritemprarsi, sono degli oli molto buoni, ci sono delle integrazioni oleose, olio di enotera, olio di lino etc. Poi c'è anche il sostegno psicologico a queste persone, insomma è un metodo che o fatto da solo o integrato con le cure convenzionali dà risultati senz'altro migliori rispetto alle sole terapie convenzionali. Poi ci aggiungiamo anche la possibilità di fare il digiuno terapeutico, i risultati possono essere ancora più importanti.